Sono triplicati nel giro di pochi giorni i dati che riguardano i contagi da Covid-19 in città e in provincia. Sono quasi 4.000 positivi in tutta la provincia nissena. Non è confortante il dato di Caltanissetta, 150 pazienti risultati positivi in città. Stesso numero a Gela per un totale di 482, compresi gli altri paesi del Nisseno. Questi i dati delle ultime 24 ore. Dilagano Omicron 2 e 3 più contagiose ma pare meno aggressive. Se da un lato i positivi aumentano non c'è lo stesso aumento dei ricoveri, infatti gli ingressi in ospedale restano pressoché invariati. Sono 41 i ricoverati in malattie infettive, 2 i ricoverati in terapia intensiva. I positivi a Caltanissetta sono nel totale 986, dei quali 11 ricoverati. Il 31 di marzo sarà finito lo stato di emergenza ma data la situazione non stabile il ministro Speranza ha chiesto di inserire nel decreto che abolirà tutte le restrizioni una clausola che consente di riattivare le misure una volta aumentati i contagi in maniera esponenziale.